ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a visionare oggi è il Villervetta Dynawind Villervetta una casa che affonda gli ingranaggi nel 1896 e attraversa poi tutta la storia dell'orologeria fino ai giorni nostri dal 1930 è in mano sempre la stessa famiglia italiana Binda però è nel 2021 che avviene la svolta diciamo epocale quando viene creato un gruppo interno che si occupa solamente di gestire Villervetta e a capo c'è Marcello Binda e il capo del designer è Fulvio Loci e qui avviene un cambiamento inizia di nuovamente a scalare il mercato con modelli legati a doppio filo al passato e il Dynawind di oggi ne è un esempio va a riprendere gli stilemi del modello degli anni 60 senza però riproporlo pari pari diciamo più che è un discendente piuttosto che una replica piuttosto che una riedizione è un discendente stilemi ma non uguale l'ho scelto perché mi ha colpito da subito perché mi piace e l'ho scelto nonostante io sia conscio che ha dei difetti dei punti deboli ce li ha l'ho preso ugualmente perché mi piace talmente tanto perché lo riesco a in un primo momento l'ho fotografato come un orologio degli anni 60 come un vintage poi piano piano scoprendolo ho capito che si tratta più di un orologio militare che non di un orologio che si rifà al vintage ha degli stilemi particolari che possono ricadere sia nel classico che nel militare chiaramente l'orologio mi è stato messo a disposizione dall'amico Giacomo titolare della gioielleria Pasquale Domenici che parte nell'ufficiale del canale ed è concessionario del marchio quindi offre un trattamento di favore a voi che telefonate per avere questo orologio questo orologio qualsiasi di quelli che ha però un trattamento di quei guanti bianchi vi tratta ve lo dico io ora prima di guardare l'orologio che tanto mi ha attratto tanto da sceglierlo vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo Breitling Cronomat GMT 40 mm di diametro cassa calibro 28-93 ETA un calibro di fornitura un semplice calibro di fornitura orologio che mi piace con il suo bracciale e c'è poco da dire come si direbbe quindi ora giriamo la camera diamo un'occhiata a questo Villervetta Dynawind e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali per capire a pieno un orologio occorre sempre partire dalle proporzioni e di conseguenza dalle misure diametro cassa 39 mm spessore 11.5 ingombro trasversale al polso 45.7 e interasse ansa da 22 mm dimensioni compatte che ci indicano la strada maestra verso la praticamente perfetta indossabilità sottolineiamo subito il dato più eclatante che possiamo notare ossia lo spessore di soli 11.5 mm sono veramente pochi e fanno in modo che l'orologio sia adagi sul polso come fosse un vintage a carica manuale è sicuramente questo il dettaglio che me lo ha fatto accomunare con gli orologi del passato lo spessore esiguo se poi si considera che una certa parte dell'altezza è occupata dal vetro ecco che prende ancora più valore il dato in sé in questa ottica va quindi letto il fatto che il fondello sia a pressione è praticamente a filo cassa e addirittura al di sopra della proiezione inferiore delle anse in pratica la sua altezza non incide sullo spessore il rovescio della medaglia è che l'impermeabilità dichiarata è di 50 metri sufficienti per un utilizzo quotidiano ma non di certo adatti per un bagno al mare ma non sarebbe un orologio da portare a prescindere al mare anche se fosse 100 metri non è nel suo stile stilisticamente parlando il termine ricorrente è svasatura ci troviamo di fronte ad un design che cerca di ripetere sistematicamente linee sfuggenti verso il basso lo si nota osservandolo di lato laddove si vede chiaramente come il fianco vada a rastremare repentinamente verso il fondello questo fattore acuisce sensibilmente la percezione di sottigliezza se mai ce ne fosse bisogno ma la svasatura si nota meglio tra le anse punto che anche se occluso alla visuale ben riassume il concetto che pervade l'intera cassa allargarsi verso l'alto a porre fine a questo susseguirsi di piani inclinati ci pensa alla lunetta che appare come quell'elemento che va a stoppare tutto ciò che accade al piano inferiore appare più come un anello piatto anche se piatto non è che intende azzerare quanto visto finora e da lì ripartire sia stilisticamente che a livello di finiture se la parte inferiore era un trionfo di piani lucidati qui si inizia a vedere un cambio di rotta una spazzolatura concentrica che risulta ben invisibile in quanto si tratta di una lunetta piuttosto impegnativa in larghezza questa larghezza ha l'effetto collaterale di ridurre l'ampiezza percepita del quadrante e a restituirci quindi delle proporzioni consone all'insieme generale non si può poi esulare dal menzionare un altro tratto significativo del dyna wind ossia la corona di carica è a pressione e disegnata in modo tale da pescare a piene mani nel passato anche per quanto riguarda le dimensioni in pratica esce leggermente dal profilo cassa sia inferiore che superiore rendendo la presa in carica particolarmente agevole forse quasi inutile su di un automatico ma certamente comoda in fase di settaggio tra l'altro il design a cipolla mette in mostra solamente una sottile porzione del profilo e non risulta per nulla ingombrante alla vista dall'alto gli scatti esterni di settaggio sono puliti e netti e come dicevo fanno riferimento ad un calibro automatico si tratta del selite sv200 uno dei movimenti di fornitura più utilizzati negli orologi di qualsiasi gamma anche in orologi realizzati da marchi che costano 10 volte tanto una scelta conservativa che mira la qualità legata alla semplicità di manutenzione ma torniamo alla parte superiore al quadrante questi è sormontato da un bel vetro bombato che si arge leggermente rispetto alla lunetta e che va a creare il tipico effetto distorsione lungo il bordo quadrante rivestito internamente con un efficace trattamento antiriflesso vede il suo punto debole nel materiale di costruzione è infatti un vetro minerale k5 non mi è dato sapere quali possano essere le mirabolanti caratteristiche tecniche di un k5 ma sicuramente una scelta di qualità inferiore rispetto ad un vetro zaffero ci sono pochi giri di parole da fare di sicuro è ben trasparente e mette in mostra il quadrante sottostante un insieme di elementi classici con una loro certa identità fondo nero opaco ed accenti chiari da subito si capisce che la leggibilità non può essere un problema anche perché gli indici sono di dimensioni alquanto consistenti la loro sagoma è insolita e poco vista difficile definirla utilizzando una forma geometrica prestabilita mentre le sfere ad aga mostrano un telaio metallico riempito di superluminova buona la finitura satinata delle lancette mentre non sono presenti particolari lavorazioni sul resto del quadrante qui ogni accento è stampato e realizzato sullo stesso piano e non sono presenti slanci di profondità si nota però un leggero e piacevole spessore sugli indici delle ore dovuto al pigmento luminescente riportato in un secondo momento ciò che caratterizza molto la grafica e poi l'avevo realizzato a denti di pettine un susseguirsi di indici che dividono in cinque parti di secondo non ha alcuna funzione particolare se non quella estetica e a parer mio ci riesce riassumendo un quadrante spartano quasi militaresco se non proprio militare che punta all'ottima leggibilità senza voler eccedere in preziosismi c'è l'attaccante fantasioso e l'attaccante d'area ecco questo quadrante pensa a buttarla dentro ad ottenere il risultato se ottima è la leggibilità diurna altrettanto efficace risulta essere quella notturna in assenza di luce le dimensioni degli indici giocano un ruolo importante e appaiono perfettamente distinguibili come si vede si nota una leggera differenza di colore che è presente anche in modalità diurna gli indici godono di quella tonalità tendente al giallo verde che li differenzia rispetto al rio una soluzione che a me piace molto e che ritengo dia carattere all'orologio per quanto riguarda il cinturino ci troviamo di fronte ad un prodotto di qualità eccellente forse uno dei migliori che mi siano mai capitati è in vera pelle e realizzato in italia la morbidezza è palpabile sin da subito così come lo spessore che è il frutto dell'accoppiamento di due differenti strati di pelle nero e vellutato all'interno color terra e leggermente rugoso all'esterno sottolino che la parte interna è veramente vellutata e che sul polso il comfort è massimo nutro però sempre dei dubbi a riguardo della verniciatura sul bordo specie se così ampia nel tempo si scrosta facilmente lasciando scoperta la superficie sottostante chiaramente non posso prevedere il futuro ma come si sa i cinturini sono un materiale di consumo che tende a deteriorarsi nel tempo qualsiasi cinturino in dotazione nella scatola troverete poi anche il cinturino militare in cordura a conferma della vocazione militare dell'orologio sinceramente non saprei decidere quale di due scegliere se la versione civile o militare adesso passiamo alle conclusioni finali perché sul cinturino occorre fare altre precisazioni cinturino di qualità eccellente lo ribadisco veramente morbido anche la parte interna ciò che mi perplime però è il colore in relazione all'interasse ansa 22 mm per una cassa da 39 mm sono veramente tantini e questo colore qua marroncino chiaro ci sta bene un color terra che stacca però secondo me un colore chiaro così mette in evidenza ancora di più quanto ingombrante possa essere il cinturino ora ci ho fatto anche l'abitudine alla lunga mi sono abituato lo vedo come qualcosa di differente qualcosa che fascia il polso secondo me hanno voluto con questa scelta da 22 mm dare un aspetto magari più militare ma non so probabilmente va meglio un cinturino più grande come questo qua piuttosto che da 18 mm da 16 quanti era del bulova milship che è veramente estremizzato e sembra ancora troppo piccolo no meglio un pochino più grande ci fa l'abitudine ti fascia il polso ok ma a voler essere precisi quasi quasi è meglio la versione con il con lo spezzone in cordura verde militare no un pochino camuffa la larghezza oppure volendo proprio scegliere per un pelle io andrei a fare un cinturino artigianale o aftermarket color marrone scuro o nero con le impunture secondo me risalta meno all'occhio è poi c'è un altro punto debole che quello è veramente un punto debole che non si può evitare bisogna parlarne per forza cioè il vetro militare no il vetro minerale scusate k5 non so cosa significhi potrebbe essere qualsiasi cosa ma è sicuramente una scelta inferiore al vetro zaffero cioè ora mi viene in mente sui zin dal vetro plexiglass al vetro zaffero ballano 200 euro di differenza sullo stesso modello quindi si presume che un vetro minerale sia a metà fallo pagare 100 euro in mettici il vetro zaffero no oppure addirittura fallo pagare 100 euro in meno ancora un prezzo migliore dei 7 99 6 99 col vetro plexiglass che ha più senso no se vogliamo anche andare a riprendere il vintage è più semplice anche da lucidare in caso i graffi anche se ho scoperto che esiste un prodotto della poli watch un bicomponente che riesce a togliere graffi o perlomeno la maggior parte dei graffi anche sul vetro minerale costa 18 euro mi sembra quindi anche sui vetri minerali c'è questa possibilità andrebbe testato veramente come si deve però io ho visto dei video e c'è vetro minerale vabbè abbiamo detto io a me sto orologio qua e poi vabbè i punti dei po forti ci sono tutti cioè è leggero il polso è leggerissimo compatto sottile come se ne vedono pochi leggibilità ottima quello stile che tanto mi piace che va dal vintage un po al militare non se ne vedono tanti di orologi fatti così peccato per il vetro minerale lo ripeto comunque a me sto orologio qua è piaciuto talmente tanto da portarlo sul canale nonostante i punti deboli evidenti quindi io ho fatto questa operazione simpatia diciamo così mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube lovo lovo Grazie a tutti.